La nutrizione migliore. Punto F attraverso Francesca R a cura di VB. Domanda. Qual è la nutrizione migliore? Guida. Il modo migliore per nutrirvi è quello che deve ancora venire ed è uno scambio di energia tra voi e il tutto perché voi, essendo il tutto, non avete bisogno di distruggere le vite inferiori all'umano. Adesso ne avete bisogno perché dovete creare. La vostra è una forma di non conoscenza necessaria perché il vostro corpo fisico deve ancora assumere materia. Quando il vostro corpo trasmuterà, parliamo di tanti, tanti dei vostri anni, non avrete più necessità di nutrirvi come vi nutrite. Che cosa scegliete di assumere o non assumere adesso non ha importanza. È importante l'intenzione di come lo assumete. Grazie. Grazie.